buongiorno calcoliamo la derivata della seguente funzione 4x meno 1 per 2x alla seconda più x più 1 ora per prima cosa calcoliamo la derivata di 4x meno 1 la derivata di 4x è 4 la derivata di una costante quindi di meno 1 è 0 quindi abbiamo 4 che moltiplica 2x alla seconda più x più 1 più 4x meno 1 per la derivata di 2x alla seconda più x più 1 quindi la derivata di 2x alla seconda è 2 per la derivata di x alla seconda quindi è 2 per 2 4x più derivata di 1 più la derivata di x che è 1 più la derivata di una costante che è 0 e quindi non la mettiamo facciamo le moltiplicazioni quindi 4 per 2 8x alla la derivata di x alla seconda più 4x più 4x meno 1 per 4x più 1 ora abbiamo una somma per differenza quindi possiamo risolverla direttamente facendo il quadrato del primo termine meno il quadrato del secondo termine quindi abbiamo 4x alla seconda uguale a 16x alla seconda meno 1 alla seconda quindi meno 1 a questo punto sommiamo i termini simili abbiamo 8x alla seconda più 16x alla seconda quindi 24x alla seconda più 4x alla seconda più 4x alla seconda più 4x alla seconda più 4x alla seconda meno 1 quindi più 3 quindi 4x alla seconda più 4x alla seconda quindi più 3x alla seconda meno 2 x alla seconda bene per il momento è tutto arrivederci al prossimo video Grazie a tutti.